il papà di Rocco Biancofiore sono io papà di Rocco Biancofiore che fece ma fece? io sono il presidente del liceo è da mese che sto ragazzo non viene a scuola ciao perché continui a guardarci la finestra? lo sa che dovresti venire a scuola che buono mi dice figli miei? domani posso ieri a scuola c'è qualche rom che lavora ci sono tanti rom che grattano questa musica questa scuola